Ma se, per ipotesi, oltre ai cortei, oltre a tutte le robe che facciamo di solito, chiedessimo a Elio Germano, Piero Pelugno, anche a Mannoia, mi piace molto la Fiorella. Voi li volete? Ma certo, venite! E' certo che portiamo gli eredi! No, 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 caspita, se vengono su degli artisti come stai nominando, questo per noi sarebbe uno sfondare lo schermo. Idea fantastica, anche perché abbiamo bisogno di amici che facciano per noi da cassa di risonanza. Chi vuole darci una mano è ben accetto perché lo fa non solo per noi ma anche per tutta l'Italia e non solo. Questa non è soltanto una lotta della Val di Susa, è una lotta di tutti, perché i soldi che ci vengono sottratti per quest'opera cioè, vengono investiti per quest'opera e lo sottraggono agli ospedali, alle scuole, alla sanità. E quindi noi abbiamo bisogno di questo. Nel senso idrogeologico, abbiamo bisogno di tanti altri lavori che sono. Abbiamo bisogno di piccole e grandi opere. 2016. Lì vediamo a luglio, è una questione di resistenza, di dignità morale e di presa, non solo di coscienza. Qui tu alloggio è presa bene. Sì. Di azione perché questo mondo sia veramente un mondo bello dove la bellezza e la forza vera sta nel popolo. Venite in valle a suonare per la nostra.